I ragazzi della scuola secondaria di Appignano saranno i primi fruitori del progetto Tutta Scena nel Mondo Digitale, messo in atto dalla neonata associazione RED, Rete per l'Educazione. L'obiettivo è quello di formare gli studenti sui comportamenti adeguati e sui pericoli legati alla rete e ai nuovi media. Questo di Appignano è il primo progetto che RED, Rete Educazione Digitale, pone all'attenzione delle scuole. Questo progetto educativo è essenzialmente rivolto a studenti, genitori ed anche docenti. Gli studenti saranno protagonisti di questo progetto perché verso di loro saranno effettuate una serie di attività informative. Difatti in questi mesi avremo otto relatori che tratteranno argomenti differenti, tutti attinenti all'uso della rete. Questa è un'opportunità per la scuola perché questa ampia informazione che verrà data difficilmente le scuole ne possono usufruire. Dopo questa parte informativa e formativa ci sarà poi una parte laboratoriale dove in questa parte laboratoriale i ragazzi cercheranno di creare delle opere musicali, delle opere letterali, delle opere di danza, opere multimediali. Quindi non saremo noi a suggerire gli argomenti ma saranno loro che comunque creeranno. Alla fine ci sarà una giornata finale dove questi ragazzi rappresenteranno tutte le loro opere, quindi tutti i laboratori fatti a partire da quello teatrale. Come comune, anche se piccolo, siamo impegnati in diversi progetti che riguardano il sociale e specialmente il coinvolgimento dei giovani perché ritengo che sia importante anche come comune occuparsi, anzi occuparsi della sicurezza, dicevo, che non debba limitarsi solo al mondo reale, alle città, ai quartieri, ai nostri territori ma vada esteso anche a quell'aspetto più virtuale ma che comunque comporta problemi veri che è quello del mondo digitale.